... Vorrei sapere chi studia musica e più o meno che cosa fanno, se studia una composizione o uno strumento. No, perché si scherzava. La musica non è un linguaggio, ma è un insieme di linguaggi. Io suono questi strumenti da quando ero piccolo, posso prendere una melodia, è molto facile, no? Tutti me lo stiamo riducendo a uno strumento, arrangiamente. E lo stiamo arreglando in una traduzione per un strumento. Potrebbe essere... Siete come voi che questi progetti possono andare avanti. Grazie tanto a Marco Lorusso, un grande pillar, non so come si dice pillar in italiano, un pillar. E ovviamente a grandi amici della Bocchita. Un saluto da Puerto Vallarta e grazie da parte di tutta la UFB. Grazie a tutti.